Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi nuovo episodio, quarto episodio di Gold Rush The Game, gioco che pare vi stia piacendo molto. Sto registrando questo video dopo la pubblicazione del primo episodio, quindi insomma molte cose me le avete già dette, perché se vedete questo video ne avete già visti tre, quindi insomma, cosa è successo? È arrivata l'estate, come cantava il buon Lucio Dalla. È arrivata l'estate e ho deciso di spostarmi da questa buca bruttissima qui, brutta brutta brutta, e mi sono messo qua. Il problema del mettermi qua è che, vabbè, qua ho una zona un po' più agevole da scavare, ma devo spostare tutto. E soprattutto non posso andare a recuperare l'acqua direttamente dalla fonte, perché è molto lontana. Ok, ho comprato tanti cavi, ma non è il massimo, insomma. Quello che faremo in questo video è, prima di tutto andremo a, vi farò vedere, se non ve l'ho già fatto vedere, perché li registro un po' in ordine sparso questi video, vi faccio vedere la magnetite e andremo a depositarla in fabbrica. Qua, io non so ancora come funzioni, ma siamo all'inizio estate, quindi l'acqua c'è ancora. Quindi, nel caso, attingeremo da qui qualcosina ancora, magari mi compro un'altra cisterna, o non lo so. E poi magari metà estate mi smetterà di andare, sicuramente ghiaccerà in inverno, quindi, insomma, vedremo. Comunque, ho scoperto una cosa molto brutta, ho scoperto che i lavoratori ci danno solo dei buff, non ci aiutano effettivamente a scavare. Quindi, se io prendo un lavoratore e lo metto sull'escavatore, mi darà più potenza idraulica. Significa che, invece che raccogliere a pieno carico, con una benna, il 25 per 25, diciamo, per cento del macchinaio, del serbatoio del macchinaio, ne farò il 28, 30 circa, quindi qualcosina in più, però non è, diciamo, il massimo. Poi livellerà e diventerà più efficiente, però vabbè. Ho preso un po' di roba per tirare un po' di cavi, comunque, insomma, adesso qui lasciamo tutto così com'è, poi metteremo via. Mi viene male già l'idea dell'inverno. Ho scoperto che c'è questa linea rossa che indica quanto è carica la tannica. Ora andremo a cablare il nuovo impianto. Ho preso anche questa pompa, che non mi serve assolutamente a nulla in questo momento, che è una pompa elettrica, quindi usando il generatore elettrico posso pompare l'acqua anziché mettere il gasolio, ma al momento non me ne faccio assolutamente nulla. Quindi direi che a questo punto andiamo a depositare in modo saggio l'equipaggiamento per la nuova zona e dopodiché andremo a depositare la magnetite e vedremo quanta ne ho fatta. Allora, in pratica, molto molto in sintesi, facciamo una cosa molto veloce da attivare come macchinari. Cioè, in pratica, noi dovremmo andare a accendere il generatore e accendere la pompa dell'acqua. Quindi, oh, mi scusi, non volevo spostare il... Ok, lo mettiamo, lo mettiamo magari... No, no. Mettiamo qua. È successa anche una cosa, ho finito il gasolio, diciamo, della scavatrice e mi si è rotta la pompa del carburante, quindi sono dovuto andare a comprare lo 124 dollari. Va bene, insomma, va bene. Allora, questa è la menata perché dobbiamo portarla tutta la roba, a riavvolgere tutti i cavi. Ok. E dobbiamo portarli là volta per volta, oppure caricare tutto sul furgoncino e andare là. Comunque intanto, vabbè, facciamo due chiacchiere. Allora, la pompa out la mettiamo qui. Eh, mannaggia, però no. No, no, facciamo una bella roba. Scusate che ho un piccolissimo problema di... Ok. Di Whatsapp web che mi scasa le balle. Andiamo, senza finire. Ho rischiato di finire in mezzo con lo scavatore, che poi, vabbè, in realtà non dovrebbe essere un problema, diciamo, recuperarlo perché si può ripristinare la posizione dei mezzi. Spegniamo. E carichiamo tutto qua. Quindi, la pompa... No, la mettiamo via. Portiamo... Riavvolge il cavo. Grazie. Mamma mia, quanto l'avevo sparso in giro il cavo. Sarà un video molto, 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 molto rilassante questo, perché andremo ad avvolgere i cavi, a cablare il nuovo impianto. Quindi, insomma, l'impianto che ci permetterà di lavorare probabilmente tutta l'estate e tutto l'autunno, tranquillamente, relativamente tranquilli. E... Vabbè, riavvolge anche questo. Tank... Ok. Carichiamo anche questo. Poi... Stacchiamo tutto. Dobbiamo staccare proprio tutto, tutto, tutto. E andiamo a ricablare di là. Ok. Carica tutto. E poi lo mettiamo in funzione, lo proviamo. E depositiamo anche la... La magnetite, come vi dicevo. La cosa che mi fa impazzire di questi giochi, e spero di trovarne altri, anche se in realtà non mi pare ce ne siano, è il fatto che uno si può organizzare come meglio crede e si fa... E si cerca il suo impianto più efficiente possibile. Il fatto comunque di dover prendere il furgone, è come trasportarsi tutta la roba, è figo, tremendamente figo. Ok. Butta lì. Adesso... Dobbiamo prendere anche questo. Avvolgere anche questo. Andiamo di là. Tank. Poi... Questo... Il ripartitore. Tank. Poi questo. Stacca lì. Stacca, stacca. Cheat. Ok. Poi. I tavoli li veniamo a prendere dopo. Perché non credo che ci stiano. Anzi, sta già cadendo tutto fuori. Allora, i secchi li buttiamo dentro. Così almeno... Iniziamo così questo lavoro. Perché in fondo è come se stessimo preparando tutti insieme l'impianto che ci farà guadagnare. Soprattutto ho saldato parte... parte del debito. Che avevo. Alla fine ho scoperto che avevo chiesto 50.000 dollari. Poi... Credo che più chiediamo debito... Più lo saldiamo. Più ne possiamo chiedere cifre superiori. Quindi... molto bene. Allora, parcheggiamo qui fin quando non è scavato. No, dovrei forse spegnere anche il motore. Va bene, dai. Allora... Iniziamo il cablaggio. Questa è la multipla del generatore elettrico. Quindi... Tec. Cavo elettrico. Tec. Non quello, ma questo. Tec. Collega lì. Tec. Collega qui. Tec. Perfetto. Poi, il secondo cavo elettrico va direttamente alla macchina. Quindi... Tec. Da lì. No. Da lì. Tec. E da qui. Tec. 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 Poi, i due cavi elettrici li mettiamo dopo perché partiranno da qui e andranno ai due tavoli. Intanto scarica tutto. Tubo. Anche qui. Tac. E tac. Tac, tac. Poi, prendiamo questo. Che partirà da, pardon, lo mettiamo qui, un po' più nascosto. Allora, cavo, tac, all'uscita, out lì, tac. Perfetto. Quindi, a questo punto, un cavo uscirà e andrà dritto all'impiantino qui. E gli altri due di là. Va bene. Adesso, riprendiamo la macchina. Dobbiamo andare a prendere i... I tavoli da lavoro. Poi, l'obiettivo sarà quello di... Boiamondo! Va bene. Va bene. Allora, ripristina. Ok, grazie. È stato bellissimo. Lì c'è il serbatorio che ho comprato per rifornire la roba, insomma, il carburante dello scavatore. No, ce n'è la terra. Ok, niente, dai. Stoppa, frena. Ok, dai. Allora. Stacca qui. E questo cavo qua ci mancava di là. Ok. Buttalo lì. Tac. Poi. Leva i secchi. Prendi il tavolo. Buttalo qui. Uno. Poi. Questo. Vediamo se ci sta. Dovrebbe. Tac. Molto bene. Vediamo se anche i secchi riusciamo a farceli stare. In qualche modo. Sì. Uno, due. Ok. Forse ce l'abbiamo fatta. Ok. Allora. Quindi. Tavolo che separa la magnetite dall'oro. Tac. No, non mi cada qua. Non c'è da ora. Allora. Il cavo va qui. Quindi. Lo piazziamo subito qui. Tac. Va bene. Quindi. Iniziamo subito ad alimentare l'acqua. Uno. E due. Poi. La rete elettrica. Cavo che avevamo messo qui. Quindi da lì. All'alimentazione che è da questa. Un po' scomoda così però va bene. Dai. Questo è cablato. Poi. Questo ha bisogno di. Anche questo. Di acqua. E di tutto. Quindi vediamo un attimo come metterla. L'acqua va lì dietro. Quindi la mettiamo da questa. Tac. Così. Quindi. Quindi. Altro tubo sul camion. Che colleghiamo. No. Devo metterla in modo più saggio. Perché. Devo metterla da questa. Per forza. Perché. Devo. No. Si accende. Da qua. Ok. No. Allora. Devo metterla così. Perfetto. Così. No. Non. Ma me lo fai mettere come cacchio ce ne ho voglia. Scusa. Come lo ruoto. Ok. Così. Basta. Non capisco. Ah. Ok. Ok. Lo molliamo qua così. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta dai. Ce l'abbiamo messo un po' ma ce l'abbiamo fatta. Adesso. Senza evitare. Evitando di buttarlo a terra. Connettiamo il cavo. Un po' la caccia. L'idea. Ok. Cioè. Mai avuti così tanti problemi però. Ok. Connetti lì. E passiamo. Qui. Ok. Tutto è cablato adesso. Per quanto riguarda l'acqua. Ci manca il cavo elettrico che va. Da qui. A. Facciamo il giro di qua. A questo. E quindi tecnicamente è tutto a posto. Ora. Ci mancano i secchi. Quindi un secchio va qui. Un secchio che qua. Tutto solo. Va di là. Cioè pensate. Una giornata. Vabbè. Una giornata no. Sono solo le nove. Però. Un po' di tempo ce l'abbiamo passato. A fare tutta sta cosa. Che poi è la pianificazione. Alla fine di. Di quello che sarà. Un lavoro. Di qualche mese. Di qualche giorno. Alla fine di lavoro. Allora teoricamente è tutto a posto. Quindi accendendo. Verremo qui. Accenderemo questo. Accenderemo questo. L'acqua fluirà. Qua produrremo energia elettrica. Che alimenterà tutta la macchina qui. E poi andiamo. Adesso. Dovrei aver già riempito. Quindi possiamo fare subito una prova generale. E vedere se funziona tutto. Ok. Consuma. Sta consumando acqua. Sì. Funziona. Funziona. Direi che funziona. Stiamo consumando acqua. Perfetto. Adesso finiamo qui. Facciamo subito una prova qui. Per vedere se è tutto ok. Versiamo il contenuto all'interno. Poi nel mentre la macchina lavora. E direi che anche in quel caso funziona. Quindi tac. Finito. Abbiamo preso della magnetite. Prendiamo l'oro. Lo buttiamo qui. E la macchina consumava acqua. Perché era acceso il tavolo. Quindi questo va lasciato proprio spento. Abbiamo aggiunto zero oro. Quindi non abbiamo proprio preso. Quattro grammi. Ok. Abbiamo preso. Ok. Un'altra finito questo. Dobbiamo spegnere tutto. L'unica scocciatura è questa. È questa pompa qui che consuma acqua. Che consuma carburante. Dovrei provare a mettergli la pompa elettrica. Però la pompa elettrica ho già provato. Nell'out. Non tira fuori acqua se questo non è acceso. Quindi tanto vale avere una pompa elettrica con un supporto a benzina. Quindi non ha proprio senso. A questo punto possiamo prendere questo secchio. Giusto per fare il numero. Pensate che è già qualche giorno che lo sto mettendo all'interno. Vedete? Verso la magnetite che non ho proprio recuperato. Infatti lo 0% era la magnetite. È già qualche giorno che deposito dentro magnetite. Ma la magnetite me la segna sempre a 0%. Quindi proprio dovremmo averne pochissima. La magnetite la potremmo vendere. Ma soprattutto la potremmo anche utilizzare per potenziare il fabbro. Il fabbro. Il fonditore di là. Tanto lascio la roba che non mi serve nel furgone. Deposito lì la tanica qualora mi servisse un po' di carburante. A questo punto, senza finire di nuovo nel buco, andiamo a prendere il carretto della magnetite. E vi faccio vedere dove si porta. Allora. Tech. Io sono piuttosto un purista in queste simulazioni e mi piace guidare all'interno. Ma vi garantisco che, nonostante sia contro la mia religione, guidarlo così è decisamente un'altra cosa. Anche perché così non si vede niente. Poi vabbè, io sono un po' scarsissimo anche così. Comunque. Adesso, adesso, noi portiamo il carretto qua, poco più avanti, alla fabbrica. E depositiamo la magnetite. Vediamo quanta ne depositiamo. La porto sopra questa griglia. Spengo. Metto il freno a mano. E tiriamo la leva. 6.000 grammi. Beh, non è neanche tanto. Calcolando che comunque a 35.000 grammi si possono prendere i primi upgrade per il fabbro, quindi il fonditore. Quindi di 35.000 fino a 50.000, quindi ben 6 kg, ce ne servono al minimo 35 kg per fare qualcosa. A livello 1, tier 1 ovviamente. Intanto io mi incastro. Già tanto che non si rompe il gancio lì. Comunque, adesso riportiamo questa di là. E probabilmente ce la lasceremo fino all'inverno perché alla fine non si guadagna niente. L'impianto abbiamo già visto che funziona. E sono scarsissimo. Che poi tutte queste botte che gli sto dando mi porteranno sicuramente a qualcosa di negativo perché se dobbiamo cambiare la gomma dovremo prendere il click, alzare la macchina, smontare la gomma e cambiargli la gomma. Quindi sto continuamente... Vabbè, ho 5.000, ho ancora un 20.000 di debito. Quindi il problema è che ci metteranno ancora un bel po' a pagare perché tra il carburante di questo coso che beve come un dannato... Poi ringrazio anche Zed Farmer che mi ha scritto dicendomi di usare il pad. In realtà, in realtà, sono diventato relativamente bravo con la tastiera. Ultime parole famose, quindi. Allora. Eh, non sono proprio bravissimo come dico, eh. Poi romperò anche uno dei denti della benna perché... Vediamo se la distanza è giusta per poterlo riempire. Adesso, con una benna praticamente bella piena, facciamo circa 25% di carico. Ho fatto il 24, quindi direi che è discretamente buono. Si va oltre il 25 se abbiamo assunto un lavoratore in quella cosa lì. L'hanno cambiata perché una volta c'erano i lavoratori, ho letto, che scavavano al posto nostro, quindi potevamo lasciarli lì e fare. Ed è un peccato perché, non essendoci il co-op, non ha molto senso. Perché se ci fosse il co-op, uno magari va in città a comprare la roba, l'altro continua. E calcolando che ci si mette un botto a guadagnare qualsiasi tipo di cosa, in sto gioco... Dovremmo essere tipo 48 e 49, abbiamo fatto il 25% a sto giro. Quindi una volta che finiamo di scavare un punto, cioè scaviamo più o meno 4 volte, riempiamo completamente la cisterna qui. A 74, sì, ancora una bottarella e siamo a posto. A quel punto possiamo andare a... Intanto mi faccio un po' di... rompo un po' di terreno qui, così almeno riesco a scavare. Per piegarla un po' prima, così almeno tirino su un po' di terra, perfetto. Allora, è molto bello scavare con l'escavatore i primi 20 minuti. Dopodiché si inizia a sentire un po' il peso del lavoro. Ok, dovremmo essere tipo 98. 98, infatti, ormai conosco i miei pulli. Spengo il motore, scendo, riattiviamo l'impiantino, anche se ho una scocciatura ogni volta accendere. Il generatore, la pompa dell'acqua, accende il macchinario. Io di solito poi provo anche a scavare mentre questo è acceso. Quindi raffina volta per volta, filtra volta per setaccia, volta per volta. Dovrebbe essere un po' più alto il consumo, però... Guardate qua abbiamo 100.000 litri, ne abbiamo fatti fuori 500. 500 per scavare uno sputo prima, quindi... Sì, poi prima consumava anche col macchinario spento, perché è acceso il tavolo di setaccio. Ma adesso, in teoria, se il macchinario si spegne, non dovrebbe più consumare i litri. Ne consuma 40 al minuto? No, il 60. Dai 60 ai 140 massimi in uscita. Adesso 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ok. Qua consuma comunque, ma nel momento in cui andiamo a spegnere, non consuma più. Quindi, consumiamo solo energia elettrica. Mo, prendiamo un secchio che è all'11%, che non è assolutamente nulla. Lo buttiamo lì. E poi iniziamo il solito lavoro. Bene ragazzi, allora io adesso spengo tutto, perché vado avanti a lavorare. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie, e poi, in caso, continuiamo. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao. Grazie a tutti.